Bene, iniziamo ora parlando di qualcosa di più tecnico, specialmente per chi lavora online, ma in generale per chi ha una pianificazione internazionale come si deve, l'ottimizzazione delle transazioni è qualcosa che non va assolutamente lasciato al caso. Se vogliamo giocare ad alto livello non possiamo dare fiducia alla prima banca che capita. I disastri finanziari per fallimenti bancari non sono così rari come sembra e per esperienza di moltissimi miei clienti vi confermo che la quantità di soldi che la gente spreca con le banche è immensa. Più giocate con cifre alte, più soldi probabilmente state regalando loro senza saperlo. Premetto, ogni servizio che si rispetti merita di essere pagato e pagato bene. Generalmente sono il tipo di persona che ama l'esclusività e solo quando il direttore della filiale vi aprirà la porta offrendovi un buon liquore comprenderete la sensazione di essere membro private di una banca. Ma con calma vi auguro di arrivare a tutto. Iniziamo però ora con vedere alcune criticità e come aggirarle in pochi semplici steps. Tenendoci ad un livello base, il primo immediato suggerimento che vi do è di scegliere con meticolosità dove depositare i vostri soldi, dividendoli in almeno tre valute stabili, come ad esempio il dollaro, la sterlina inglese o l'euro. Consiglio inoltre di affidarsi a piazzi importanti e riconosciute a livello bancario. Quindi, ad esempio, se abbiamo una società in un paradiso fiscale, possiamo aprire il conto corrente della società in una piazza più riconosciuta dai vari istituti bancari. Banalmente, se avete una società a Dubai, con conto corrente emiratino, ma i vostri interessi sono ad esempio in Europa, troverete molte difficoltà nelle transazioni, poiché molte banche potrebbero non accettare bonifici dagli emirati o dai vari paradisi fiscali. Parlo specialmente delle banche più obsolete. Una vera seccatura nel momento in cui dovrete pagare beni o servizi o anche solo fare un bonifico ad un amico. La tassazione, come abbiamo detto e come recita la direttiva di riferimento dell'Unione Europea, non è in alcun modo legata a conti correnti, a patto che vengano dichiarati e che, neanche a dirlo, non vengano usati per riciclaggio di denaro sporco. Appena possibile, una cosa che vi consiglio è quella di iniziare a dividere i vostri soldi in diversi account e di avere un account di accumulo dove far sparire i vostri soldi senza che possiate controllarne la somma. Impostate degli spostamenti di denaro automatici e datevela come regola, così da essere coperti in caso di emergenze e di continuare a reinvestire ciò che rimane nelle casse a voi visibili. Fate bene attenzione a diversi fattori. In primis, i conti devono essere assicurati contro i fallimenti per massimali importanti. Al solito, raccomando, qualsiasi versione premium disponibile in grado di darvi maggiori garanzie. Vi sono conti con sistemi di assicurazioni molto all'avanguardia in termini di frodi o esenzioni di garanzie su beni e servizi. Quindi, tenete bene a mente che le banche in qualche modo lucrano sui vostri affari, nulla da eccepire in linea di massima, tutti devono mangiarci un po'. Ed in cambio di un buon servizio, assolutamente sì, qui siamo pro soldi ed auguro a tutti di averne parecchi da bruciare. Però, quando facciamo transazioni di business, sarebbe bene evitare inutili commissioni su bonifici internazionali o commissioni sul cambio valuta ai limiti del ridicolo. A seguire, elencherò le opzioni più valide per chi inizia a giocare ad un livello internazionale e non ha voglia di sottostare ad obsoleti vincoli territoriali. Bene, numerose sono le opzioni che potreste adoperare. Vi sono numerose banche che aprono conti, anche da remoto, in alcuni casi con offerte molto vantaggiose. Quale vi consiglio io? TransferWise. Questa che vedete è l'interfaccia grafica che vi troverete davanti. Chiaramente, aggiornano spesso i loro sistemi. Registrare un profilo con TransferWise, che richiede un paio di minuti per essere impostato, nulla ha a che vedere con le lungaggini delle banche tradizionali. TransferWise è un istituto finanziario inglese che, tramite accordi con diverse banche, dà la possibilità di ottenere un conto corrente, sia personale che di business, a nome della vostra azienda, snellendo moltissimo la burocrazia. Chiaramente parliamo di una struttura finanziariamente solida, che chiederà a voi alcuni documenti. Laddove apriate ad esempio un conto aziendale, vi verranno ovviamente chiesti i documenti di autenticazione della società e di confermare l'indirizzo di questa, così da spedirvi la carta. Tutto viene fatto online. Potete confermare la vostra identità scattandovi una foto dallo smartphone e per ogni evenienza avete un team dedicato che vi assiste. Quali sono le comodità di TransferWise? Potete aprire un conto corrente da remoto in qualsiasi parte del mondo. Dagli Stati Uniti, Australia, Singapore, tutto sarà d'improvviso più vicino, con l'evidente vantaggio di abbattere numerose barriere d'ingresso e collegare i diversi mercati. Un esempio pratico per intenderci meglio. Se avete una società negli Emirati Arabi Uniti dove non pagate tasse, avete bisogno di un conto corrente aziendale dove far convergere i profitti dell'azienda. Unico problema. Da remoto, con tutta probabilità, vi apriranno al massimo una prepagata e per esperienza diretta vi chiederanno un versamento minimo non inferiore a circa 10.000 euro. Per carità, saranno sempre soldi vostri alla fine, ma magari se siete stretti con il budget potreste non averli ed in ogni caso Liban Emiratino potrebbe essere rifiutato in diversi paesi in cui vorreste bonificare successivamente. Insomma, molte seccature. Con TransferWise avrete invece gratis, in un paio di giorni, una carta aziendale con IBAN europeo. TransferWise è ad oggi forse una tra le migliori piattaforme in termini di cambio valute. Specialmente se lavorate nel mercato internazionale potete mandare o ricevere denaro al prezzo del cambio corrente senza essere caricato da commissioni ai limiti del ridicolo. Anche cambiare i vostri soldi da una valuta all'altra avrà dei costi irrisori. E se vi trovate a maneggiare grandi numeri risparmierete migliaia di euro tra commissioni e tassi di cambio. Non importa se la persona a cui mandate denaro possegga anch'essa un account TransferWise. I bonifici avvengono nel giro di pochi minuti con una semplicità impressionante. In definitiva questa è senza dubbio una soluzione semplice ed è di lungo periodo, quindi potete usare TransferWise anche per aprire un conto personale a vostro nome. In generale è una soluzione fortemente raccomandata. Bene, escludendo ora tutti i tecnicismi già elencati per il conto business e che non stiamo qui a ripetere, uno degli aspetti per me cruciali per l'amministrazione del denaro è l'estrema flessibilità del mio portafoglio. In generale, più soldi avete, più vi consiglio di essere meticolosi nello sceglierne l'allocazione, ragion per cui vi consiglio di affidarvi a più banche. Personalmente preferisco affidare a due banche diverse, conto aziendale e conto personale, e tra i miei conti personali dividere il capitale tra almeno due banche locate in stati diversi e possibilmente anche in valute diverse, così da mettersi al riparo da ogni pericolo finanziario possibile legato al territorio, alla banca o all'instabilità della valuta. Chiaramente è stupido dividere un capitale esiguo. Vi raccomando piuttosto di tornare a pensare a questi problemi quando avrete degli income molto alti. All'inizio, invece, è importante disporre con elasticità della propria liquidità. Al solito, non vi consiglio di affidarvi a banche obsolete. Il tempo è la cosa più scarsa che abbiamo. Le persone ricche non possono permettersi di andare in banca a fare la fila e perdere giornate intere per banali operazioni. Grazie al cielo, la tecnologia ci viene incontro. Oggi vi sono numerose banche online in grado di eliminare la componente burocratica e servire prestazioni di altissimo livello. Siete al solito liberi di scegliere la strada che preferite. Personalmente, vi raccomando N26 e Revolut, con cui mi sono trovato molto bene. Sono state tra le prime banche online ad imporsi pesantemente nel mercato europeo e ad oggi le ritengo tra le alternative più affidabili. Da qui potete facilmente registrarvi. La procedura richiede 5 minuti. Chiaramente vi consiglio la versione premium, in quanto avete una serie di benefici e coperture assicurative che non sto qui a elencare. Il concierge è davvero impeccabile. Qualsiasi problema vi risolvono tutto nel giro di pochi secondi senza bisogno di perdere le famose giornate in banca. E se non sbaglio, accedendo ai vari piani business, dovreste averne addirittura uno personale, ma non vorrei sbagliarmi. Potete impostare limiti della carta comodamente da cellulare, cambiare il PIN e dividere i vostri soldi in vari spazi e valute, così da aiutarvi a gestire meglio il denaro. In generale, da persona che spende tanto, queste sono due opzioni che vi raccomando fortemente. Ve ne sono molte altre, certamente. Fineco, se cercate una banca italiana, ad esempio anche molto buona. Dipende molto dal tipo di operazione che intendete fare. Ad esempio, N26 è ottima per gestire e dividere i soldi. Revolut è incredibilmente buona per i cambi di valuta, al pari di TransferWise. Fineco è la prima in Europa in termini di trading. E così via. A voi la scelta. Magari qui sotto vi lascio qualche link per iscrivervi e ricevere dei bonus, o magari no. Più avanti, in ogni caso, inserirò qualche caso studio su come gestire le banche ed ottimizzare le finanze personali. Se questo video ti è stato utile, allora ti invito a seguire i prossimi appuntamenti con questa playlist per scoprire molti altri concetti utili ad ottimizzare la tua condizione fiscale. Infine, ricordo a tutti che, laddove foste interessati, è possibile approfondire questo genere di argomenti in consulenza col nostro team, o ancora, affidare direttamente a noi la vostra pratica per internazionalizzare la vostra azienda. È possibile trovare i moduli qui in descrizione per fare richieste e mettersi in contatto con noi previa accettazione. Abbiamo un'enorme esperienza in quello che facciamo e possiamo offrire tutta una serie di servizi necessari a compiere al meglio questo passaggio. È nostro interesse portarvi al risultato che desiderate senza commettere costosi errori. Per questa lezione è davvero tutto. Buono studio. A presto. A presto.